La Giunta Comunale di Pesaro ha presentato oggi il piano dei suoi servizi educativi estivi 2024. L'assessora Camilla Murgia ha illustrato come siano stati previsti 10 posti in più per la sezione primavera e ha aggiunto 85 posti per la fascia tra i 6 anni. Saranno dunque 515 quelli disponibili a luglio 2024 che conteranno anche due strutture aperte in più rispetto allo scorso anno per un totale di 8 plessi. Al contempo è stato confermato il fondo da 86.000 euro per la frequentazione dei centri estivi privati convenzionati con il Comune che nel 2023 hanno risposto a tutte le richieste pervenute per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Un'altra importante risposta per le famiglie verrà data con il sostegno educativo assistenziale che per l'estate 2024 si arricchirà della quinta settimana di servizi insieme agli educatori per ragazzi che frequentano i centri estivi primati. La Murcia ha ricordato in tal senso che per garantire il servizio per un solo mese sono necessarie circa 250.000 euro di risorse. L'apertura delle domande per i servizi educativi è prevista il 15 di aprile.